Torna a Città Sant'Angelo, Hit Parade, quarta edizione, tre giorni di grandi eventi. È un evento che riesce ad abbinare nel miglior modo possibile l'ottima musica, spettacoli sempre più divertenti e originali con il buon mangiare. Ma la straordinarietà di questo evento io credo che sia proprio nella sua organizzazione, un'organizzazione a cura di un'associazione culturale denominata Ora, composta nella sua totalità da ragazzi angolani. Ragazzi quindi mossi sicuramente da un amore per la propria città e quindi la vogliono sempre più viva, sempre più accogliente anche per i turisti nel periodo estivo, ma anche sicuramente mossi da una voglia di socialità, di divertimento, dello stare insieme che deve essere alla base di una collettività. Il bel centro storico di Città Sant'Angelo, questa manifestazione viene valorizzato, viene esaltato e reso sempre più accogliente. Infatti io invito tutti ad essere presenti a Città Sant'Angelo questo fine settimana, dall'8 al 10 luglio per Hit Parade. Ci saranno sei postazioni di musica live ogni sera, ci sarà la presenza tutte e tre le sere di tre concorrenti dell'ultima edizione del programma di Sky Masterchef Italia e il sabato avremo inoltre in concerto la presenza di Federico Poggi Pollini, che è il chitarrista di Liga Bue. Oltre a questo, a far da cornice avremo dei bellissimi angoli espositivi grazie alla collaborazione instaurata con il circuito Città Slow e una postazione dedicata alla cultura americana degli anni 50-60 grazie alla rinnovata collaborazione con lo UNAB americano.